Tanta buona per tutti ragazzi, qui MrFranc che vi parla, bentornati con questo nuovo video Siamo ufficialmente in possesso di nuove informazioni riguardanti una special edition di Black Ops 3 che è appena trapelata in rete, ossia la Juggernaut Edition signori Una special edition, una edizione della collezione veramente a mio avviso favolosa perché consiste di, tanto per iniziare, un mini frigorifero Juggernaut, signori Un mini frigorifero, avete capito, con la forma della bibita che riprodurrà anche la stessa colonna sonora del gioco quindi probabilmente avrà anche la musichetta tipica del Juggernaut Avremo anche, all'interno di questa confezione, dei sottobicchieri ufficiali della modalità zombie che avranno i simboli delle bibite più famose cioè il Juggernaut, la Speed Call, la Double Tap e Quick Revive Avremo anche il Season Pass di Call of Duty Black Ops 3 che garantirà l'accesso a tutti i DLC che usciranno per il gioco vi ricordiamo che saranno in anteprima, tra virgolette, su PlayStation 4 e poi usciranno successivamente su Xbox e PC ci saranno delle carte da collezione con delle concept art una steelbook da collezione che conterrà il disco la colonna sonora di tutto il gioco quindi si suppone anche del comparto zombie che, sappiamo, ha una colonna sonora a se stante molto interessante e tre pacchetti di personalizzazione per le armi ossia il pack di Weaponized 115 che non so se verrà tradotto in italiano questo è ciò che viene riportato in questa locandina il Personalization Pack Cyborg e il Personalization Pack per Black Ops 3 ultimo ma non ultimo ci sarà, signori, una mappa bonus zombie mappa bonus che si chiamerà The Giant The Giant che viene definita come il remake della mappa Der Ries, signori questo ci farà interpretare di nuovo Takeo, Nicolai, Dempsey e Rick Toffen anche su Black Ops 3 e già questo era supponibile dalle informazioni che avevamo ricavato dalla primissima conferenza di zombie che si era tenuta persino a febbraio dove era emersa questa immagine che vedeva la piantina diciamo di Der Ries leggermente modificata con la firma di Rick Toffen che ci faceva supporre a qualche modifica sulla mappa e infine anche un commento diciamo dello stesso Syndicate che per chi seguiva il mondo, il panorama di Black Ops 1 e Black Ops 2 saprà che si è fatto conoscere per la sua abilità nella modalità zombie di Call of Duty e appunto in una sua live stream ha dichiarato quanto segue e proprio Syndicate stasera dalle 10 alle 11 orario italiano terrà la live streaming di presentazione di questo zombie per Black Ops 3 quindi sul canale di Twitch di Syndicate potremo seguire la diretta della conferenza a San Diego e scoprire tutte quante le novità per zombie fateci sapere cosa ne pensate di questa collector costerà a quanto sembra intorno ai 280 dollari per l'America ma ancora questo prezzo non è stato ufficializzato si tratta soltanto di rumor ancora ad ogni modo fateci sapere cosa ne pensate fateci sapere se avete intenzione di prenotarla e magari di iniziare a risparmiare fin da ora seguiteci sulla pagina Facebook dove questa sera vi terremo aggiornati in tempo reale con le novità che usciranno riguardanti zombie un saluto da Mr. Frank e ci vediamo con un prossimo video iscriviti al canale